Capito? Vai indietro. Stiamo giù. Ma anche quello è così. Hai visto quel talento? Non ti puoi sbagliare. Ahahahah. Guarda giù. No, non mi fai giù. Non mi fai giù, non mi fai giù, non mi fai giù. Ma io lo so, lo so. No, no, la facciamo. No, è uguale. L'altro. No, non è così. Non ci vuole. Ci sono? Cosa? A chi è successo. Che ci sono? Certi, si è sicuro. Ecco, mi cerco di farlo. Questa è? Perché fai quel? Il fatto che loro lo mantengono molto, un po' che si sta тут. Questo è per loro, ma quello è più irritato, non può, perché dice la griglia. Non è la griglia normale, che tu la regoli. E poi fai lì, ecco. Bisogna solo capire la distanza. Non puoi fare il stamento. Non è griglia, quello è solo. Ancora bisogna cambiare la placca. Ancora la placca. Ancora stai cambiando la placca. No, quello te lo sei portato. Allora.